Il tamburo battente quest'anno organizza suoni e colori dal mondo, due fantastiche serate, che cosa ci aspetta? Ci aspettano delle serate bellissime, interessanti, emozionanti, ricche di avvenimenti. La prima serata sarà dedicata al Brasile, quindi a tutto il mondo, la musicalità del Brasile. Ricordiamo che il tutto avverrà in Piazza Malta, dalle ore 19, sia per quanto riguarda il 31 luglio che il 1 agosto, l'apertura degli avvenimenti avverrà alle ore 19 con un contorno, una cornice di artisti di grande spessore culturale, pittori, scultori, fotografi, che faranno da cornice all'evento musicale, che poi inizierà alle ore 20. La serata del 31 sarà dedicata alla musica, alla poesia e al fascino del Brasile con l'apertura alle ore 19 della mostra di pittura e scultura di Monica Cappelletti. Alle 20 seguirà la roda di Capoeira con il gruppo 100% Capoeira e la chitarra di Marta Caratelli. Alle 21.15 poi andrà in scena il concerto teatrale La Vita Amico e l'Arte dell'Incontro. La serata poi si chiuderà col concerto di Bossa Nova ad opera di Pamela D'Amico Trio. La serata del 1 agosto invece vedrà protagonista la musica jazz in tutte le sue sfaccettature. Alle 19 assisteremo alla performance estemporanea di Monica Cappelletti, alle 20 ascolteremo il blues di Marc Pellegrini e alle 21 il red time di Fabrizio Pellegrini. La chiusura sarà ad opera della crossover music dei Baroque & Blue Quintet alle 21.15. Alle ore 22 il Latin Jazz di Maurizio Di Fulvio e del suo trio, a cui seguirà la jam session finale a partire dalle ore 23. Per queste due serate ci saranno anche delle importanti agevolazioni per i commercianti di Chieti. Sì, ripetiamo ancora una volta l'agevolazione prevista nella nostra politica fiscale, che vuole essere un incentivo proprio per il rilancio dell'economia teatina, in che consiste nell'abbattimento della tassa dell'occupazione del suolo pubblico per quello che è il suo 80% dell'importo. Questo darà la possibilità alle attività commerciali di poter allestire tavolini, punti ristoro su Piazza Malta e poter quindi svolgere una loro attività produttiva che sarà incentivata grazie all'organizzazione di questa serata e in questi due giorni.